Per chi ha una diagnosi tumore, la sarcopenia è un problema notevole, perché è stato osservato che più è presente sarcopenia, più è elevato il numero di effetti collaterali della tossicità, quella che viene chiamata, alla terapia oncologica. La sarcopenia, ovvero la riduzione della massa muscolare, si associa anche a un peggioramento della tolleranza ai farmaci, alla radioterapia, alla terapia immunitaria, tutta la terapia oncologica, ma non solo, anche alla terapia chirurgica, per cui combattere la sarcopenia è essenziale. È stato provato anche che proprio i farmaci tendono a distribuirsi all'interno del corpo e che la mancanza di muscolo si associa con un progressivo incremento della tossicità specifica di questi farmaci.